se non sei d'accordo con ciò che sto per dire sei cazzi tui è una sfida e non uno scambio di opinioni anche perché chi crea la sfida fa le regole e non il contrario benvenuti ragazzi a questo secondo episodio esplicativo di questa 21 days ht hero challenge che tradotto dall'inglese significa famo circolo insieme e vediamo che tiriamo fuori oggi parliamo di dieta cioè di nutrizione per chi inizia ad allenarsi con l'hit ma aspetta prima di prendere carta e penna e cominciare a segnarti i calcoli guarda questo video fino alla fine prima cosa siamo agli inizi che cazzo di calcoli vuoi fare sì lo so che senti ovunque anche da fonti più che autorevoli che il bilancio calorico è il principale responsabile di mettere peso o di perderlo ma a parte che faccio da anni una lotta sfrenata con questa teoria che sì è una cosa giusta ed è un'evidenza senza poterla discutere ma ragione potremmo nutrirci di maltodestrine per i carboidrati di aminoacidi essenziali per le proteine e di olio di oliva per i grassi e avremo tutti un fisico della madonna una salute alle stelle vivremo fino a 150 hai capito che è una cazzata sì io lo so che si può dimagrire anche con la nutella anche con la pizza anche con gelato l'importante è stare all'interno del regime calorico che ti sei prefissato ma questo è vivere bene questa challenge si basa tutta sull'allenamento ripeto l'allenamento ht immagina hai una macchina scarcagnata alla quale devi revisionare il motore cioè proprio l'elemento di tutta l'automobile che ti permette di farla muovere non puoi preoccuparti prima del tipo di carburante che ci metterai faccio spesso gli esempi con l'automobile perché calza a pennello e allora continuo stessa cosa per gli integratori magari ti chiederai chissà che integratori bisogna prendere per dimagrire o per comunque affrontare questa challenge anche qui immagina la macchina è una merda non si muove neanche in discesa la benzina che ci stai mettendo è a tre ottani però te ti preoccupi su quale additivo mettere per pulire gli iniettori capisci che siete un tantinello confusi prima cosa motore e quindi allenamento ma quello lo faremo insieme quindi non ho assolutamente una preoccupazione enorme per il discorso allenamento riguardo cosa quanto e quando mangiare determinate cose per ottenere l'obiettivo che ti sei prefissato prefissata è un dettaglio che vedremo molto più in là in tutto il percorso che faremo insieme anche oltre questa challenge ci sono delle priorità urgenza o comunque priorità numero uno qualità alimentare alimenti non confezionati da cuocere e consumare con un minimo di organizzazione sono sempre da prediligere sappi che a parità calorica un'alimentazione seguendo una corretta selezione delle fonti migliora drasticamente la tua forma fisica la tua sensazione di benessere anche l'emotività migliora tantissimo rispetto a farsi affettati tutto il giorno alimenti che non nascono iperproteici e te li vendono come se fossero il segreto la bacchetta magica insomma tutto quello che ha conservanti additivi che sono addizionati di cose che non ce le hanno all'origine lasciali perdere non ti fidi? priorità o urgenza numero due io lo so che chi mi segue da tanti anni sa che ripeto sempre le stesse cose ma ahimè sono quelle che funzionano bevi bevi cristo di dio perché hai paura di andare troppe volte al bagno andare troppo in bagno diventa un problema quando qualcuno ti punta un fucile alla tempia e ti dice guai a te se ti alzi ma in tutti gli altri casi oppure se ti interrompe troppo il sonno è molto meglio essere iperidratati piuttosto che disidratati acqua non frizzante mi raccomando se devi rieducare il tuo corpo a bere a comunque a utilizzare l'acqua che gli dai perché la storia che vai tanto al bagno è all'inizio poi dopo cala di molto utilizza acqua non gasata perché quello che disseta dell'acqua è l'acqua insieme ai minerali nell'acqua gasata ci sono molti più minerali ti disseteresti prima e sarebbe molto più difficile aumentare l'introito di acqua quanta acqua bene per sopravvivere cioè parliamo di un soggetto in stato vegetativo cioè che non deve muovere mezzo muscolo si parla di peso corporeo per 0,03 questi calcoli puoi farli ma poi c'è la vita di tutti i giorni lavorare allenarsi perché noi lo faremo un bel po e affrontare appunto la giornata con un minimo di lucidità e visto che di metto si parla devi sapere che il 2 per cento di disidratazione fa calare la tua performance fino al 30 per cento quindi se non ottieni risultati con l'allenamento spesso è per il fatto che non bevi poi si guarda altre cose per questo che ti parlo di priorità e urgenze per finire visto che seguite soltanto chi vi fa paura al 10 11 per cento di disidratazione si muore quindi quel 2 per cento che ti fa calare soltanto la performance gli svarioni iniziano verso il 5 6 per cento dicevo il 2 per cento che è legato soltanto a conseguenze sulla performance rappresenta rispetto all'11 per cento che poi ti porterebbe appunto a situazioni nefaste il 20 per cento fai calcoli per capire di cosa ti sto parlando se hai il 2 per cento di disidratazione dove hai soltanto conseguenze sulla performance in realtà sei al 20 per cento di probabilità di arrivare all'11 per cento che ti ho già detto cosa succede ora io non lo sto augurando a nessuno però visto che vi muovete soltanto se mi cagate sotto allora mi faccio cagare sotto io ok spreco ma allora come mangeremo durante la challenge io ho parlato al vento finora i calcoli sulla nutrizione si fanno molto dopo quando si ha una certa regolarità di stimolo di frequenza di grado di intensità e sono cose che adesso non stai facendo all'interno della challenge quindi detto proprio scientificamente e io che cazzo ne so anche perché non ti conosco e la mia onestà professionale intellettuale mi fa dire per ora muoviti attraverso priorità e urgenze però una cosa la potresti fare se non l'hai mai fatto prima non l'ha mai fatto nessuno prima per te comincia a migliorare la qualità alimentare e a bere un po di più durante la challenge e monitora come si muove il tuo peso in base a queste scelte alimentari che fai e nel frattempo queste scelte alimentari durante le tre settimane della ht hero challenge utilizza un'app ce ne sono di tutti i santi peccati per stilare un diario nutrizionale vedendo quanti carboidrati proteine grassi e di conseguenza calorie stai ingerendo e quel tenore calorico che effetto ha sul tuo peso unito al discorso che ti stai allenando in maniera ht ovviamente questo video e queste raccomandazioni sono per chi non è seguito da professionisti della nutrizione che dovrebbero già fare questa cosa o magari la fanno già facendo anzi informateli se siete seguiti che avete intenzione di fare questa cosa perché magari state facendo un qualcosa per sedentari dicendogli diventerò uno sportivo o una sportiva vi faranno qualche modifica sono obbligati a farlo se ti ha messo in chetogenica vabbè basta l'ho già detta nel video numero uno spero che questo video ti sia piaciuto fammelo sapere con un like o con un commento iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto attiva la campanellina così ti arriverà la notifica di quando pubblicherò il prossimo video dove parleremo sì di allenamento ma non vedrai ancora gli esercizi perché quelli vengono dopo prima devi sapere su cosa lavoreremo quante volte ci alleneremo e qual è il mood giusto per iniziare a entrare in quest'area bellissima dove l'unica colpa del non avere risultati sarà solo tua vuoi